Bentornati ragazzi miei qui su Pokémon Next, io sono Diegub e oggi vedremo insieme come andare a sconfiggere Ghiratina Ombra e quindi ottenere la Grigiosfera. Ghiratina Ombra non è altro che un boss speciale di Pokémon Diamante Lucente per la Splendente, che ovviamente nei giochi originali non era presente. Essenzialmente Ghiratina Ombra serve appunto a darci la Grigiosfera, lo strumento che come ben sapete una volta affidato a Ghiratina gli permette di cambiare forma e assumere appunto la forma origine, che trovavamo solamente in Pokémon Platino. Per avere accesso a questa stanza del Parco Rosa Rogosa tutto quello che dobbiamo fare è essenzialmente andare a catturare Ghiratina al quarto lago di Sinnoh, il lago nascosto che si sbloccherà una volta finito il gioco. Una volta ricevuto il nostro Pokédex nazionale quindi potremo dirigerci verso il lago Valore, proseguendo a nord per il percorso noteremo che si è aperto un sentiero e da lì potremo accedere niente meno che ovviamente alla Fonte Saluto. Dentro la Fonte Saluto troveremo la Grotta Ritorno e una volta completato il puzzle che ci porterà al cospetto di Ghiratina riusciremo quindi a catturarlo e poi successivamente al Parco Rosa Rogosa a raggiungere la stanza dove troveremo la sua forma ombra. Per raggiungere questa lotta però dovremo ovviamente avere una piastra distorta che scambieremo per frammenti in soliti S o L con la reception del Parco Rosa Rogosa. Non preoccupatevi se non vi appaiono poiché probabilmente dovrete riuscire a catturare prima i tre Pokémon Regi, detto che comunque sono quelli che un po' fanno da tutorial per questo parco. Dunque se non sapete dove trovare i frammenti in soliti S o L vi invito tra l'altro a guardare la guida che ho fatto qualche giorno fa e una volta che avremo la piastra distorta la inseriremo dentro al pilastro che troviamo nella sua stanza e vedremo arrivare Ghiratina ombra a livello 100. Non è difficilissimo da battere soprattutto perché voi potrete portare con voi fino a 6 Pokémon quindi se magari volete una lotta entusiasmante provate a darvi qualche limitazione voi. Una volta battuto questo Ghiratina che ricordo non è possibile catturarlo troverete la Grigiosfera e la stanza si capovolgerà. Molti non sanno nemmeno della sua esistenza nel gioco quindi ho voluto fare un video guida per spiegarvelo. Lasciatemi ovviamente un mi piace per supportare il canale e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto per ricevere nuove video guide su Pokémon Diamante Locente per la splendente. Io sono Diegub e oggi eravate su Pokémon Next. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!